Salve a tutti, sono TheLongamer e bentornati su ValiantArts. Oggi preparatevi a una fuga di prigione che eviterà col fiato sospeso per tutto il tempo e poi, nei panni di Freddy, vediamo di sconfiggere il maledetto barone una volta per tutte. Buona visione! Ok, il cane è già arrivato là sotto. Fottose che il cane ha capito tutto della vita. Oh, l'uccellino! Oh, oh, oh! Oh, ciccio, no! Come hai fatto a morire? Eh, morto malissimo peraltro, eh! Oh, oh, è un rutto di quelli proprio puzzolenti. Cioè, non ho capito. È morto lui e il canarino è ancora vivo. No, non l'ho capito, sta cosa. Il canarino lo vedo tanto, tanto vivo. Guarda il cane, guarda il cane! Il miglior cane del mondo! Ma guarda che puttano! Perché si fa paura che magari porto via il canarino e lo abbandono qua nella miniera, ok? Come hai fatto? Come hai fatto, ciccio? Porca di quelli per porca! Aspetta che arrivo! Certo che non assumevano i soldati più furbi, eh! Vediamo se qua c'è roba. C'è un passaggio, ma ci serve della dinamite per aprirlo, probabilmente. Allora, vediamo capitano furbizia qua su come lo tiriamo giù. Buongiorno! Ah, è un semplice giro alla leva, yeah, yeah! Oh, oh, oh! Ok, ok, oh, oh! Abbiamo causato un leggerissimo crollo! A posto? Arrivo a salvarti, ciccio, porta pazienza. Aspetta un attimo. Oh, no! Eh, fa da contrapeso l'alto carrello. Cane! Cane, tu in teoria puoi aumentare la quantità di peso, ora che ci penso. Vai dal tizio, vai dal tizio, io tengo giù tutto. Bravo! Sbranagli la corda, sbrana la corda! Sto cane, veramente! No, davvero! Lo voglio, ne voglio, lo clono! Fotte sega! Perfetto, ciccio, si salvo? Eh, qua la mano sta ciolla. A posto, a posto, dai! Ehi, là non si va, questo è poco ma sicuro. Dimmi che hai della dinamite da parte. Signore! Ah, e la madonna! In dieci secondi ho già messo tutto. Aveva la dinamite, aveva il detonatore, ho già piazzato anche i fili e tutto. Bravo, ciccio! Sai renderti utile, è stato un piacere di conoscerla. Arrivederci, eh! Buono! Ah, no, mi segue! Ma che rompi, vale! Ok, dai, ti porto in salvo fino alla fine. Piano, piano, vediamo che non incappari nessuna bomba o altro. E... cos'è? Oh, ok, uno rimane di qua a attivare il sistema e l'altro va di là. Vado prima io, sicuro? Lei mi gira la cosa? Bravo! Non mollarmi che c'è il gas sotto, eh! Che ci moriamo malo malo. Perfetto. Ora noi gliela rimandiamo di là. E lo ritrasportiamo di qua. Salga, salga, che sicuro! Se si spezza la corda, piego tantissimo per lei. Ok, l'è andata di culo. Per il secondo ammetto che temevo il peggio, eh! Grazie, grazie, grazie. Ti chiamerò Freddy, anzi, Freddy Bianco, ma vabbè. Freddy White, Freddy White va benissimo come nome. Perfetto. Nah, spingo anch'io. Aspetti, 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 spingiamo in due. Oh, lè. Perfetto. Oh, la scuola della vita siamo diventati. Ottimo. Di qua passiamo tranquillamente. E dovremmo praticamente essere a posto. Sì, sì, di là c'è l'esercizio francese, bravo. A tuo piacere conoscerla. Non mi dire che... Aspetti un attimo. Oh, i tedeschi. No, 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 no. Buono. Che fai, che fai? Oh, mani nude, scemo. Oh, no. È un tedesco, adesso mi ero accorto. Ah! Noi gli abbiamo salvato la vita e lui ci ha permesso di andare via. Non mi ero accorto che l'uniforme era tedesca. Cos'è che devo fare? Oh, sono appena rientrato. Cinque secondi di pazienza. Il paninozzo. Guardi, c'è il pane lì. Mi faccio tirare due smangiucchiate? No, devo andare a lavorare che rompi palle, che sai? Ma dimmi te. Beh, onesto almeno il tizio di prima, eh. Avrei potuto farci uccidere i suoi colleghi e piove. Piove già in trinicea. Dicevo, avrei potuto farci uccidere i suoi colleghi. E invece? Oh, adesso possiamo passare? No, niente. Ok, che caccia? Torno in miniera di nuovo? Che giornataccia, però. Ok, ok. Almeno qua non piove, malgrà consolazione. Però crollano le cose. E ci sono i tedeschi che ti ammazzano malo malo. Allora, adesso in teoria dovremo poter scavare tranquillamente. Olè, perfetto. Però non possiamo raggiungere la leva da questa parte. Questo ovviamente è un punto di ritorno. Allora, vediamo di andare di sotto. Cane, tu passa per di lì. Adesso dovremo poter accedere in teoria al resto delle miniere. Buongiorno. Ehi, sta zona è strana però. Non possiamo aprirla. Ah, era dove eravamo prima. Ottimo. Buon salve, collega. Mi prendo una bottiglia di vinello, eh. Mi serve per scavare meglio. Si fidi. Ok, qua possiamo scavare. E c'era un collezionabile. Uh, cos'è? Piastrina britannica del 1915. Oh. Ognuno sa proprio tutte le piastrine. Le hanno introdotte praticamente nell'ultimo centinaio d'anni. Ah, aspetta. Come facciamo però? Ah, cane, 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 vieni qua. Vieni con me. Perfetto, no. Qua sopra attiva. Qua sopra. E stai fermo. Bravo. E con la bottiglia dovremmo poter attivare la leva. Olè. Ottimo. E ora che siamo qua sopra possiamo tranquillamente andare dall'altra parte. Perfetto, perfetto. Oh, i tedeschi sono proprio sopra di noi, eh. Mi sa che stiamo proprio attaccando la loro base. Ok. Vuoi un carrello con un carico nascosto? Benissimo. Nessun problema. Glielo vado a recuperare io. Al cane, tu vai di là. Perfetto. Oh, il cane è sopra adesso. Ok, ok, ok. Come lo possiamo utilizzare? Ci segue? Buono, buono. Vai, fido. Vai, fido. Tranquillo, lui. Il mio piccolo comincia... Cos'è? Una chiave inglese? Oh. Allora, intanto facciamoci riportare la chiave inglese che non so a cosa ci serve ancora. Mi piace come... Vedi un cane passare con una chiave inglese? Ma due domande te le fai? No. Oh, fotte sega. Bravissimo ciccio. Ok. E ora che abbiamo la chiave inglese... Probabilmente dobbiamo sbloccare il carico da qualche parte. E vediamo se qua a sinistra... Allora, c'è un... Oh! C'è una leva su cui possiamo usare il coso che ci porta sul carico di cui tutti avevano bisogno. Aspetti che sicuramente qua c'è il collezionabile raro. Oh, l'ecco di roba è. Una lanterna da tenicea con quella forma lì. Una lanterna piegavola che si poteva trasportare nello zaino. Ecco perché aveva quella forma. Ma... I soldati mettevano al suo interno una candela così era protetta dal vento. Oh! Geniale, geniale. Pieghevole. Ok. E ora dovrei poter trasportare sto cavolo di cosa. Eeeh... È un mondo difficile tanto tanto, Emil. Se abbiamo culo il percorso in discesa... Eeeh... Quindi questo coso sarà pieno di dinamite, vero? Vauqua è la guerra di miniera. Sotto la collina di Vauqua, a est di Verdun, si combatteva una guerra sotterranea. Entrambi gli eserci si scaveranno tunnel su tunnel per sabotare le operazioni nemiche. Al punto che i genieri finirono talvolta per trovarsi a pochi centimetri di distanza. Guarda che roba! Vabbè, ma era angosciante. L'uso complessivo di ben 500 tonnellate di TNT durante gli scavi cambia radicalmente l'aspetto della collina. Dici? Giusto un attimino, eh. Effettivamente abbiamo già riempito di esplogivo la zona, non me ne ero accorto. Potrebbe essere un piccolo problema. Ok, arrivo col carico, arrivo col carico, provate pazienza. Non mi ricordo più a chi serviva il carico, era voi, no? Hanno 500 euro, pagate in contrassegno. No, si prendono il carico e via, maledetti. Ok. Guarda dinamite che stanno piazzando! Oh, oh! Maneggiate con cura, ragazzuoli! Maneggiate con tanta cura! Mi pare un po' troppa dinamite, eh. Non sono un esperto, però secondo me è un po' tanta. Oh no, c'è il tizio! No, povero tizio! No, l'abbiamo appena salvato ed è morto di nuovo. E che giornata di merda, però, eh. Ma dimmi te. Ok, ok, ok. Direi che sono morti un attimino, ma secondo me abbiamo anche un po' esagerato, eh. Oh, mi direi che ritrova il cadavere, Emilio. I ufficiali francesi erano orgogliosi delle pesante... Eh, la madonna! Emilio furibondo rifiutò ogni decorazione per ciò che considerava un atto di codardia. Eh, in effetti, non era una battaglia leale. Erano felici di aver strappato il padre di Anna... Ma guardali! E che fine ha fatto il barone von Strunzen, ora che ci penso? Oh! No! Come era stato ucciso? Non lo sapevamo! No, povero! Voleva solo tornare dalla moglie, lui! Ma povero Carla, che sfiga! È stato il personaggio più sfigato fino adesso! Aspetta, ma siamo sicuri che si è stato ucciso? Perché Anna effettivamente era al campo di prigionia, quindi deve saperlo. Quindi gli hanno sparato mentre fuggiva. No, 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 ciccio, 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 ciccio! Ah, che faccio? Ah, io scappo! Potessi che io scappo! Ah, Carla, veloce! Forse non è andata così, forse credono che sia stato ucciso. Aspetta, rifugiati dentro! Ah, aspetta, poi qua di sotto, di sotto, veloce, 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 veloce! Ci stanno cercando tanti in fretta! Ah, dove mi nascondo? Aspetta, ah, forse non mi cercano qua! Devo dire che c'è il furbo che controlla dentro! Ah, sì, ma che faccio? Ah, non so dove andare! Non so dove andare! Stanno controllando dentro! Aspetta, aspetta, se scendelo per cuoto! Se scendelo per cuoto! Ok, ok, non ha controllato qua sotto! Oh, mi sono caccato la vita! Buono, la via dovrebbe essere completamente libera, però dobbiamo stare molto attenti! Perché diavolo avranno detto che Carla era morto? Ok, piano, piano, ciccio, fai molta attenzione! Bene, non dovremmo avere i fari qua, ma di sicuro... Come hanno detto, a quanto pare anche loro hanno le torce portatili! Piano, piano, piano! Andiamo un po'... No, ci sono ancora le luci! Allora, dobbiamo stare molto attenti... No, vada via, vada via, signore! Ok, di qua ovviamente non possiamo passare, quindi andiamo verso lo sfondo, vediamo un po'... Speriamo bene per il povero Carla... Oh, oh, aspetta, aspetta, questo si sta girando avanti e indietro? Ok, vediamo... Ah, ho fatto la minchiata! Scusi, scusi, ho fatto la minchiata, porti pazienza! Ok, stavolta stiamo attenti che il tizio in primo piano vada dall'altra parte, bravo! Ok, piano, lui si gira di tanto in tanto, ottimo! Il problema è che avrò lasciato indietro un po' di collezionabili, ma vabbè! Ah, c'è un altro tizio che probabilmente si gira, aspetta... Ok, dobbiamo stare molto attenti! Oh, c'è una chiatta mobile! Oh! Pe, 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 pe! Ok, 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 dobbiamo stare attenti... Lui guarda dall'altra parte quando... Quando si gira e torna indietro! Quindi noi possiamo tranquillamente... Gira, 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 gira... Eh no! Eh no! Eh no! Ah, 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 ah! Ok, mi sono caccato! Mi sono caccato tanto, 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 tanto! Ma porca di cali per porca! Cori, corri, corri che non così all'ultimo! Porca boia, mi sono caccato anche troppo per il che mi riguarda! Come fanno ad avere delle torce così potenti nel 1915, porco cane? È un po' prestino in effetti! Ah, aspetta, mi sa che non possiamo andare avanti... Gira la ruota, ieie! Oh, oh, mi sa che arriva la gente molto in fretta! Ciccio veloce, ciccio veloce... Eh, la madre... Oh, 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 oh! Buoni, come non detto! Come non detto! Sali sull'albero, sali sull'albero! Porco cane, mi sono caccato la vita! Ok, ok! Ma chi è che ha fatto la porta con il sistema di meccanismo più, più scrauso della vita? E spero che non rimarranno qua sotto per molto! Buongiorno, salve, mi sento un po' leziouditore di turno! Ok, mi sa che si passa per gli alberi! Vai, piano, 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 piano! Eh, chi è che ha... Cioè, notare... O c'è la casetta sull'albero più alta del mo... Mele, ho trovato le mele! Spera, ciccio! No, no, prendi la mela! Oh, dai, anche un pugno alla mela! Eh, le mele d'oro del vicino abbiamo trovato! Che fanno? Che siete a mangiare le mele così ad cazzo? Aspetta un attimo, forse le mele dovrebbero averli distratti a sufficienza, in teoria? Ah, sì, si sono distratti a guardare le mele! Madonna, oh! Neanche fossero un reperto archeologico, eh, voglio dire! Aspetta, gira, 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 gira... Eeeh! Controller Xbox 360, aiutami tu! Veloce, veloce! Veloce! Ah, mi fa male il titino, non sono abituato! Ok, a posta, a posta, a posta, entra! Ok! Ok, sono dovunque questi tizi! Aspetta, abbiamo trovato una lettera! Corrispondenza militare! I soldati ricevono cartoline particolari che potevano spedire i commilitoni! In questo modo, i fratelli assegnati in unità diverse potevano restare in contatto! Se più membri di una stessa famiglia cadevano in combattimento, gli altri non venivano rimandati a casa! Intere famiglie furono spazzate via dalla guerra! Che è bella cosa ed è così che nacque il film Salvate il soldato Ryan! L'ambito che gli hanno sterminato l'intera Cristo di famiglia! Hanno detto, no vabbè, salviamogli nelmeno uno dall'estinzione completa! Ok, aspetta! Oh! Oh! Parco cacchio! Adesso che trovo le tronchesi arriva il tizio sotto! Beh, vediamo se possiamo andare di qua! In effetti sì! E c'è un giro alla leva! Ye ye che c'è... Perché un ponticello quassù? Ok, che in granai potevi caricare la roba anche dall'alto! Però, anche a farlo apposta il ponticello mi porta sull'albero! Ok! Che strutture bizzarre e strane! Aspetta, però... In teoria i signori non sono più qua sotto! Oh! Veloce car, corri car! Veloce, veloce, veloce! Taglia, taglia, taglia! Taglia che ci avrai le genti attaccate al culo come al solito! Ok? 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 A posto? È l'Amazon! Perché butti via? Non sta a tenere che magari le dai sulle gengive al primo soldato che ti si para davanti! No! Aspetta, aspetta, aspetta! Vai giù, vai giù, vai giù! Troppo veloce! E ho trovato... Una pelle! Cos'è? Siamo diventati di colpo dell'Hondark? Pelle di capra! I soldati si avvolgevano in qualsiasi cosa a poter tenerli caldi! Le pelli di animali, soprattutto di capra e di pecora, fornivano un'ottima protezione! Ole! Cosa ci possiamo craftare, peraltro? Oh! No! Fatti i cazzi tuoi! Ok, corri! Però probabilmente ci serviranno le bottiglie lassù, quindi senza perdere tempo! Adesso vediamo! In teoria questo è l'unico tizio che è sul ponte! Bene, si gira! No! E sono proprio in due! No, aspetta, quell'altro se ne è andato! Veloce, 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 veloce! Prendi la bottiglia, prendi la bottiglia! Ok! E torniamo velocemente lì sotto! Buono! E questa ce l'abbiamo! Ok! Vediamo un po' cosa ci serve! Perché c'è uno spaventapasseri laggiù? Oh! Ecco perché! Perché i soldati non c'hanno la torcina, ma hanno la lucina qua! E ora non c'hanno più la lucina! Oh! Cosa sarà succeduto? Eh, beh, 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 beh! Li stavo sfottendo, non li sfotto più! Non li sfotto più! Corri, 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 corri! Ah! Mi, mi, beh! Cosa? Oh! Posso fargli chiedere dietro un pupazzo? Aspetta un secondo! Eh, amici, mi mettezzo dietro! Dietro lo spaventapasseri! Aspetta! Aspetta! Ok, piano! Piano, nessuno vede nulla! Faccio finta di niente! Olè! Geniale! Geniale, geniale! Aspetta, aspetta che c'è anche un collezionabile qui! No, no, lo spaventapasseri! Voglio il collezionabile! Scemo, mi fanno prendere un colpo! Aspetta, prendi... Ok, allora, appoggia lo spaventapasseri! Prendimi il collezionato! Porco cane, Carl! Cortesemente, grazie! Oh! Rivista inglese! La rivista London Opinion incoraggiava i civili inglesi ad arruolarsi! In copertina è riprodotta la celebre immagine di Lord Kitchener! Segretario di Stato alla guerra che usato ai Britannici ad arruolarsi! Nessuno sfuggiva al suo guardo penetrante! Eh, immagino, cacchio! Ok, si sono allontanati di nuovo! Lacce, 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 lacce! Moltizio, perfetto! Vabbè, questo ce lo portiamo via anche in battaglia, eh! Questo è perfetto! È l'alleato della vita, buono! Mi ci sono affezionato! Ti chiamerò Gian Giacomo! Ti chiamerò Gian Giacomo e ti porterò sempre con me! Più o meno! Ok, ti abbandono di Gian Giacomo! Oddio! L'ho dovuto abbandonare Gian Giacomo e l'ho fatto per una buona causa! Ok, piano! Uh, le peco! Oh! Aspetta un secondo! Oh! Si muovono anche queste! Si muovono anche queste! Aspetta, 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 aspetta! Che se si separano troppo sono... Sono cavoli! Ah, ah! Andrebbe a essere un problema! Andrebbe a proteggermi anche dalle torce! Qualcuno comincia a rimanere indietro! Merda! Merda! Vai avanti! Vai avanti! Beh! Beh, piccata, superi il culo! Oh, oh! No! 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 Sì! No! Maledette! Perché si muovono di notte? Non dovrebbero dormire la notte, peraltro! Piano! Sì, sì! Se torni indietro di colpo! Giuro su Dio che ti rado a zero a calci in culo! Ah! Lo sapevo! Lo sapevo che mi trattivi malo malo, bastarda! Aspetta, aspetta, aspetta che arriva la collega! Perfetto! Vai avanti! Vai avanti, piccolina! Non tornarmi indietro! Eh, no! Ok! 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 Piano! Piano! Buono! Aspetta, aspetta! Raggiungi l'altra! Raggiungi l'altra! Raggiungi l'altra! Perfetto! Ok! Anche questo sta andando avanti! Eh! Nessuno vede niente! Ci vediamo, belli! Ok! A posto! Ah! Ah! Carl! Fuggi! Fuggi che non ne posso più nemmeno io! Ok! Cos'è? Cos'è? Oh! Carl! 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 Carl, stai buono! Porca boia! C'hanno pure i flare! Ok! Dobbiamo correre quando non ci vedono! Aspetta, aspetta! Veloce, 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 veloce! Flare! Un altro flare! Ah! È pieno di gente! Ok! Vai, 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 veloce, 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 veloce! Merda! Mi sto cacando! So che una di queste volte che accenderanno i flare... C'è sempre più gente, peraltro, eh! C'è sempre più gente! Qua c'era un collezionabile! Cos'ho trovato? Le bretelle! L'accessorio fondamentale del soldato! Le bretelle all'epoca erano più diffuse delle cinture e reggevano anche i calzoni ricoperti di fango! Ah! Il soldato che dimenticò queste bretelle doveva avere una cintura valida! Perfetto! O magari il tizio se l'era dimenticato qua dopo che ha fatto la cacca! Corri! Cioè, notare il dispiegamento di forze per recuperare Carl! Oh, neanche fosse il prigioniero politico più importante della vita! La polizia militare è responsabile della disciplina di soldati fuori dal teatro di guerra! Controllava i militari nelle zone civili, arrestava chi veniva sorpreso senza lasciar passare, chi saccheggiava e chi si ubricava o violava le regole! Oh, 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 oh! Boni! Date, Boni! Oh, è tutti incazzati all'improvviso! Carl, porco cane, ma ruba un uniforme la prossima volta! Ok, corri dentro, corri dentro, corri dentro! Ah, qua c'è una leva! Ok, si è chiuso tutto, buono! Oh, il nostro collega che era scappato! Come va? Lo prendo come un male! Wilfred 1914! Ah, è morto malissimo! Che faccio? Ah, che faccio? Aspetta, 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 recupero la piastrina intanto! Cosa vuoi fare? Aspetta, i momenti di furto improvviso gli vengono in... Oh, si è finto il collega! Ho capito! Quindi quando l'hanno catturato hanno pensato che effettivamente fosse Carl! Tanto per loro i prigiani erano tutti uguali! Genio! Un genio! Bravissimo Carl! Bravissimo Carl! Però, adesso tu ti penso che sia morto! Porco cane! All'epoca voglio dire! Una nuova arma? Sono curioso! Baffone! Come va la vita? Eh, la madonna con che carri armato me lo dice! Con che carri armato non me lo dice, signor Baffone! La battaglia della Somme! Gli inglesi diedero inizio alla battaglia della Somme con l'obiettivo di allontanare i tedeschi da Verdun e tentare un attacco decisivo. Per la prima volta quel giorno, il 15 settembre 1916, furono usati i carri armati in combattimento. Ah, fino adesso erano tutti soldati! Grande idea! Il carri armato Mark I, costruito nella massima segretezza, il carri armato deve il suo nome inglese, Tank, a un sotterfugio usato per nascondere il progetto alle spie. Sui documenti ufficiali si parlava infatti di un veicolo con un serbatoio, che in inglese si chiama Tank per l'appunto, ideato per rifornire d'acqua le truppe russe. Ah, ecco perché! Geniale, geniale, buono! Allora dobbiamo proteggerci dietro il carri armato. Eh, che bestia! Va, che bestiola che non ci ritroviamo pure noi! Lo guido io? Oh mio Dio, lo guido io! Oh mio Dio, lo guido io! Sono un papino contento! Wiii! Speriamo di non aver pigliato nessuno! Ragazzoli, andiamo! Ok, cerchiamo anche di proteggere i nostri commilitoni dal fuoco nemico, eh! Oh oh! Ok, nessun problema, vi proteggo io! VfC me! Allora, un po' ne abbattiamo lo stesso! Ti insegno io a rompere la ciolla! Ok, di certo esplodo giusto un attimino, eh! Tranquilli, vi protegge il vostro prode dell'unghimer barra Freddy! Angora! Aspetta, 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 aspetta che tipi... No, l'ho mancato tantissimo! Il carri armato era messo in posizione brutta brutta! Occo, qua neanche il fango si passa lui! E butta giù le case senza un minimo di rispetto! Ok, teniamo il colpo alto stavolta! Le bombe? Come le bombe? Wow 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 wow! Ok, ok, piano 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 piano! L'ho mancato tant'errimo! Però non ci hanno fatto troppi danni! Ok! Oh mio Dio! Possiamo passare, sicuri? Eh, aspettate ragazzi che non è una buona giornata! Oh, questo l'ho pigliato finalmente! Parca boia in mezzo al fango! Andava da tutte le parti sto coso! Buono, ci siamo ancora tutti vivi! Permesso, scusate! Perciò la precedenza! Caro armato pesante incazzato con la vita! Ok, perfetto! Aspetta, aspetta! Inclinami un po' il colpo verso l'alto! E stavolta dovrei riuscire a pigliarlo! Piano, piano! Aspetta ancora un secondo! Olè! Ti insegno io a lanciare le bombe sui miei colleghi! Ma porca di quella porca! Qua c'è gente che mi deve ancora 50 neuri! Ok, speriamo non salti il ponte! No, nessun problema! Mi piace come Freddy di colpo è diventato anche pilota, eh! Oh, oh, oh! Boni! Boni! Oh, 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 oh! L'artiglieria potrebbe essere un problemino! Wow! La nostra esperienza è durata poco! Ma è stato bellissimo! La, 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 la! Dove andate ragazzi? Andate di là! Io ne vorrei un altro di cararmato! Ne posso avere un altro? Lo prendo come un no bastardi! Vediamo un po'? Mi ami! Ah, ti amo anch'io, eh! Abbiamo passato una notte di passione! Ed improvviso una mappa! Oggetto del concorso Valiant Stories! Mappa Anzac della zona di Holbecky in Belgio! Oh, ok! Sono contento! Petta, 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 petta! Lei cosa vuole? Anche lei mi ama! Tutti mi amano! E lei mi droppa un paio di occhiali da sole! Ah, no! Sono un paio di piastrine! Piastrina Anzac! La piastrina dell'Anzac era simile a quella britannica! Ma il disco in metallo rimase in uso più a lungo in Australia! Nel 1916 le truppe dell'Anzac ricevettero un secondo disco da abbinare al proprio, come tutti gli altri membri dell'esercito britannico! Meglio bondare della serie, ok! C'è qualcun altro che mi ama? No, eh! Perché probabilmente si aveva fatto colpire qualcuno dalle bombe e quindi hanno detto No, io non ti do il terzo oggetto! Bastardi! Oh, 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 oh! Pet, 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 pet! Freddy, Freddy, spegni! Freddy, spegni! Pezze, merda! Torna qui a far esplodere le cose, pur che di quella porca! Oh! Ah, no! Il terzo oggetto l'ho trovato! Era un telegramma! Telegramma dalla Nuova Zelanda! E maschio? Stop! Brian, stop! Madre, figlio, ok! Stop! Ci manchi, stop! Stop! Coi Rolling Stones! Perché di colpo vengono in mente le canzoni? Buono abbiamo recuperato tutti gli oggetti Guarda la roba che c'era Cioè se sta cosa esplodeva è finita Ma dimmi te quanta crisbia di dinamite avevano Però un paio di granate me le porto via Allora cos'è sta roba Un'entrata E lassù c'è una scatola Allora vediamo se Come facciamo a tirare giù quella scatola Aspetta aspetta il cemento sembra un po' fragile Quindi la granata avrebbe riuscire a far cadere il tutto Vediamo un po' Olè risposta corretta Buongiorno aspetti che salgo sopra E questo lo possiamo tranquillamente spostare E usare come scaletta Tanto abbiamo già trovato tutti gli oggetti Quindi non mi devo girare la mappa come un povero pirla Perfetto aspetti che provo il tiro della vita Signore Mi raccoglie quella granata Oh non muore mai nessuno in sto gioco Fino adesso letteralmente non ho quasi ucciso nessuno Olè bravo Freddy Perfetto direi che possiamo tornare in superficie Dicevo tutti quelli a cui tiriamo granate Fuggono Non abbiamo ucciso nessuno con armi da fuoco letteralmente Oh ripetito il cararmato Mi hanno cilato il cararmato bastardi Ma lo volevo guidare io Dicevo tutti quelli che stendiamo sono a pugno o altro Oi oi Mio cararmato No che mi incazzo Mio cararmato Scusi Signore sarebbe il mio cararmato Mi ridio il cararmato Vabbè procedo a piedi Ma dimmi te Ah ok mi hanno arrivato il cararmato Ole E perché mi stavo incazzando di brutto Ok buongiorno permesso Oh era un bunker Scusi non l'avevo visto Ok probabilmente dovremmo ancora difenderci dagli attacchi E lo stavo dicendo io Non mi rubi le battute E si Come diavolo avrei dovuto colpirlo Dimmi te più di così il coso non va verso l'alto Buoni Buoni che sennò comincio a sparare anch'io E i miei colpi sono un po' più stronzetti Ne vuoi un altro Ancora un altro Buono Oh e datti una calmata Ma porca di quella porca Aspetta Aspetta Oh ti insegno a rompere la ciolla Wow E' caduto anche vicino E' caduto tanto tanto vicino Ancora eh Ray A De Boni Oh 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 Aspetta Oh tutti e due Due colpi due morti eh Porco cane Perfetto Sta collina è piena di bunker e casini vari Ancora Aspetta che lo piglio Perfetto Anche questo è precipitato Ah madonna Oh ci dia una placata Si a giudicare dalla luce direi che siamo arrivati Sembra tipo la luce divina Ok non siamo arrivati Porco cane Mi hai rovinato il momento con la luce divina Beh non ancora aerei Non credo Mi date gli allarmi falsi ragazzuoli Mi fate arrabbiare Oh oh Ah ciccio Oh no il barone von Dorf è dall'altra parte E ci Aia ci distruggiamo che armata vicenda No Ci siamo disabilitati le armi Barone Ci affrontiamo a pugni O a baffi Oh che sfida Oh che sfida C'ha il baffo furbino No Che fate Che fate ragazzi Non mi pare una buona idea Caboia che legnata Barone Barone venga qui Scusi Oh Aspetta Oh è un quick time event Ok Aspetta Aspetta Pariamo Perfetto Ok Un cragnatone sulle gengive Mi piace come gli vuole il cappello ogni volta che lo colpiamo Perfetto Oei Vai Freddy Vai Freddy Vai Freddy Ma dimmi te A parte che il barone ci avrà anche la sua età Con quanta violenza Gli è partito anche un dente Mi prendesse da me anche un testicolo Dopo troppi passi falsi e troppe battaglie perdute Il barone Von Dorf fu degradato E basta Oh finalmente Un destino peggiore della morte Oh barone ciao ciao Vaffanchiurlo Ma dimmi te pezzo di merda 18 gennaio 1917 Emile costretto a letto Implorò Anna di recarsi a Saint-Miel Da sua figlia Per darle la triste notizia Ma è vivo Ma povero Anna partì immediatamente E mi sa che arriva prima Anna però eh No Cioè sto povero Cristo veramente si è fatto l'intero inverno camminando In giro per la Francia No la pula No la pula stai giù Sei ancora vestito da tedesco E trovati un boio di vestito da civile Carla È pericolosissimo Ok il barone è fuori dai giochi Ma la guerra è tutt'altro che finita Ora non ci resta che fare in modo che Carla Riesca a tornare dalla sua famiglia E assicuriamoci che tutti escano illesi da questa terribile guerra Ma purtroppo per questo episodio è tutto Quindi lasciate un bel mi piace per continuare la serie Condividetevi il suo video Terracan a crescere E noi ci vediamo nel prossimo episodio Ciao ciao